Si tengono tutti alle bandiere Non scherzano le alte Vernazzone leggermente tardate in partenza I pepati di sospere voi insieme a Vernazzone, Acqua 4 I due pepati che hanno preditati Potete vedere grande equilibrio in acqua Voltri al domani per rambo, Benzano, Luzzano, Timoniere, Biondi E l'Urania, Paolo, Testimonio, Mostatello, Savona, Timoniere, Lazza Queste le due barche candidate al successo alla luce di quelli che sono stati gli ultimi risultati Ma attenzione anche a Quinto, Cama, Parbone, Poi, Benvenuto, Tortorello E Sestri, Vagdi Gentile, Scartevo, Zoccolà, Barciacchi L'hanno preso lontano Vediamo, proprio per il primo giro di Boa E Quinto, Voltri e Vernazzone assieme Adesso tocca anche a Sestri Grande equilibrio, si sembra che leggermente prima si è uscito fuori Quinto Attenzione, il clamoroso errore di Vernazzola E qui, sbagliato Boa deve tornare indietro, girare E questi sono errori che possono costare un paio Ora per rimontare ci vorrà veramente tutto Sperare anche magari le disgrazie a Tule Quinto, Voltri, quindi, sono adesso i candidati alla vittoria di questa 57esima edizione del Pade Con Vernazzola, che adesso è morta più dalla porta della disperazione Alla ricerca della rimota E l'altra, tra questo, i Voltri Dopo il primo giro di Boa, che praticamente ha messo pure Cielo Vernazzola Con Sestri Ora in terza posizione Ma Vernazzola, il nostro arrivere, vediamo Chiaro che pagheranno moltissimo quell'errore Per gli sforzi proputi, il coraggio e l'eternazione Ci sono tutti Secondo giro di Boa vicino con un Settri mai d'oro Ma è il Voltri che ci sembra essere avanti Voltri a Voltri a Quinto Il Voltri che si avvicina al giro di Boa numero 2 E con un vantaggio cuore Risicato Gira davanti a Quinto Quinto è molto bravo nel giro di Boa Gira anche Sestri adesso E tra poco si accinge a girare anche Vernazzola A metà gara Voltri Davanti a Quinto Il terza posizione di Sestri Gira adesso una giro di Boa Vernazzola Voltri Sì Sì Anzi Guarda la gira 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 Voltri Guarda la gira Folti 1500 Km Il terzo sempre più vicino per voi che qui con terza posizione testa che deve difendersi dal ritorno di Vernazzola un ritorno rapiuto con quell'errore al primo giro di Boa che è costato parissimo si avvicinano al terzo e ultimo giro di Boa Volpri e Quinto vediamo che girerà per primo Volpri ma in rapida successione anche Quinto è una vera bellissima Volpri e Quinto sono praticamente insieme Quinto si gira di Boa riesce sempre a rosicchiare qualcosa da Volpri che poi l'errore è detto sulla potenza e la passate in acqua Quinto è Volpri ora gira Sestri ora gira anche Vernazzola che addirittura ha recuperato Sestri la gara ha spariata praticamente quella di Volpri e Quinto con il Volpri che resta prova a macinare potenza e a guadagnare quel vantaggio che le potrebbe permettere un rush finale migliore rispetto a quello di Quinto ma un Quinto che non lo ha anche accorto che non lo ha anche accorto da questa posizione volpre ci siano esteri avanti rispetto a quinto eh sì dal posteriore della bolletta rotta quindi vediamo le volpre prima avanti e ora quinto prova a recuperare con un improvviso cambio di marcia vedremo che basterà con la volpre e quinto con la prima posizione con le maglie verdi quelle rivoltri ormai vicine alla vittoria una vittoria che ritorna dopo esattamente due stagioni risultano i volpre Altono Reno e vittoria la cinquattasettesima edizione del paio secondo porto per un ottimo punto e applaude bravo bravo e la terza posizione e testa testa tra sessi e un rapporto con un rapporto che ha disputato una gara unissima tutte altre squadre che mi hanno detto un giornale indimenticabile anche un piccolo avvento storico ai tempi della Repubblica di Sena dove il salee che da utri e da peggi partivano le barche cariche di legname che veniva la carregò in scia in rivela deponente per costruire e navi e galè da Repubblica di Sena quindi a tradizione dei vultri a se perpetua anche in modo sportivo ricordandosi questo passato illustre da nostra Sena questa è una bellissima che giunta per vedere da tutti e per salutare e come compagna il gruppo storico del Comune di Genova e il gruppo folclorico del Comune di Genova vi dà un appuntamento all'anno prossimo grazie da Francesco Pitaluva da compagna sul podio ci sono prima secondo e terzo generosissima nonostante un errore pagato poi a caro prezzo ma veramente per generosità per la Sena non sono stati secondi a nessuno gli amici di Bernanzola bravi 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 grazie 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 Grazie. Grazie.